Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special, siamo con il secondo episodio dei Top & Flop al Fandacalcio in collaborazione con Seagwolf Ieri infatti abbiamo visto i difensori e i portieri, adesso andremo a vedere i centrocampisti, lo so, sono vestito come ieri, anzi facciamo una cosa Ok, così dovrebbe andare bene, dicevamo oggi parliamo di centrocampisti, vi ricordo che non saranno i migliori centrocampisti al Fandacalcio ma coloro che in relazione al costo all'asta, quindi in base a quando l'abbiamo pagati al Fandacalcio, poi hanno reso meglio, quindi hanno sorpreso positivamente nel caso invece del video di Seagwolf, quelli che hanno deluso Partiamo dalla quinta posizione infatti dove abbiamo messo Ilicic, Josip Ilicic infatti ha fatto ben 11 gol, una Fandamedia tra l'altro altissima ha fatto anche 8 assist e ha reso bene, da lui diciamolo, ci aspettavamo qualcosa ma non mi aspettavo sinceramente un rendimento così alto da top praticamente di reparto, quindi complimenti a Ilicic Al quarto posto abbiamo messo Veretout, perché lui era sconosciuto, infatti pochissimi forse l'hanno preso già a settembre qualcuno magari esperto che aveva intravisto qualcosa su di lui, ha reso anche bene perché ha tirato bene calci di punizione e due rigori li ha messi dentro, uno l'ha sbagliato, l'unico difetto era soprattutto i cartellini ha preso diverse ammunizioni e anche un cartellino rosso, ma per il resto ha reso benissimo Al terzo posto invece abbiamo messo una sorpresa, una scommessina, ovvero Ander anche lui un po' sconosciuto, ero indeciso se inserirlo perché in effetti non ha reso bene tutta la stagione è stato più una sorpresa da gennaio in poi, infatti coloro che l'hanno preso comunque all'asse di riparazione hanno trovato in lui una risorsa nuova per la seconda parte della stagione quindi complimenti appunto a chi l'ha preso soprattutto a gennaio Al secondo posto invece abbiamo messo un giocatore che mi ha fatto impazzire ragazzi Verdi ragazzi, Simone Verdi con un rendimento mostruoso ha fatto se non sbaglio una decina di gol, 9 assist e va anche voti molto molto buoni anche quando non portava bonus, quindi un rendimento da top di reparto e nella maggior parte dei fan da calci spondava il centrocampista proprio per questo è stato veramente un top acquisto Al primo posto non potevamo non mettere lui, Luis Alberto veramente l'anno scorso aveva fatto una brutta stagione tra l'altro spondava attaccante nello scorso anno quest'anno da centrocampista ha fatto il fenomeno ha fatto se non sbaglio 11 gol, 12 gol, qualcosa del genere ha fatto una tredicina di assist, ha segnato in qualsiasi modo e ha preso anche molti voti buoni quindi veramente per chi l'ha preso soprattutto come scommessa a pochissimi crediti ha fatto l'affare dell'anno quindi complimenti a Luis Alberto detto questo se siete d'accordo sembra un pollicione in su ragazzi però anche un episodio domani con gli attaccanti ditemi se volevate inserire qualche altro centrocampista qual è stato il vostro affare dell'anno magari avete preso altre scommessive interessanti ditemele qua sotto iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ci vediamo domani con un prossimo video ciao ciao